SIGNOR FRIY Motore a combustione interna? Undici sillabe che significano un mucchio di soldi. I motori arriveranno a Milner via treno. Portateli a me. E per lui... sarà la fine. Mi servirà un secondo treno per farlo. Ma forse ho l'uomo giusto. Siamo d'accordo, signor Fri? Ammetto che mi piacete, Miss Sattaway. SIGNOR FRIY SIGNOR FRIY SIGNOR FRIY SIGNOR FRIY SIGNOR FRIY SIGNOR FRIY Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora cosa vuoi, frai? Perché pensi che voglia qualcosa? Forse ti ho salvato solo perché ho il cuore tenero. Dai, ho un lavoro per le mani. Miller ha un grosso carico lì. Tu stai pronto a trasferirlo? No, no, tu non ci ho avuto, venga? No, no, tu non ci ho avuto. Non è qui. È quello sbagliato. No, no, tu non ci ho avuto. E ci siamo. No, no, tu non ci ho avuto. 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 un motore a combustione. Un motore a combustione interna. No, tu non ci ho avuto. 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 No, tu non ci ho avuto.